Milano 10 gennaio 2008 Qui nella mondana Corso Como ci troviamo non per bere un aperitivo ma perché qua nei pressi al Lato Hotel stiamo incontrando i nuovi ragazzi che entreranno a far parte del mondo Movida, seguitemi! Eccoci, è proprio qui che i nostri severissimi esaminatori stanno decidendo le sorti delle giovani reclute Venite con me! Ciao a tutti, sono Pinky, spero di diventare animatrice per Movida e... Non so più cosa dire! Ciao, mi chiamo Martina e mi piacerebbe tantissimo partire con Movida per quest'estate vorrei fare la cantante, spero che quindi potrò avere un ruolo di questo genere Mi chiamo Angela, vengo da Torino mi piacerebbe fare il mini club e mi piacerebbe tanto andare a Tenerife Formazione nuova oggi con Elena Cacciatori che insomma funge, fa le veci di Daniera bisogna dire, insomma non è assolutamente facile Dani non ne volete, è sempre la preferita Mi sono trovata benissimo con Schizzo e Antonio perché comunque è un ambiente sempre piacevole e poi con gli animatori o aspiranti animatori è sempre divertentissimo quindi bene e non vedo l'ora tra l'altro di fare lo stage finalmente a Verona anch'io e di conoscere tutti Ciao ragazzi, sono Serafino, arrivo da Milano mi presento come jolly posso fare qualsiasi cosa, dall'animatore al PR destinazione va bene qualsiasi, non c'è problema anche se lavori 20 ore al giorno, non hai il momento mai per pensare però le emozioni che ti regala sono troppo forti e quindi vorrei ripetere questo sentirsi viva ogni minuto sentirsi in unione con tutti vorrei lavorare in Movida perché ho già fatto una stagione con Bravo poi sono ballerina quindi partirei come ballerina, come hostess anche mi piace fare spettacolo, mi piace stare sul palco ciao sono Alice Contu, vengo da Robbio in provincia di Pavia ho 18 anni, non so bene che ruolo voglio fare però mi piacerebbe molto partecipare ciao mi chiamo Daniela, ho conosciuto Movida tramite Elena Cacciatori e sono qua per lavorare con Movida nei miniclub con i bambini vorrei entrare nell'agenzia per fare un'esperienza che può essere di due mesi andare in Spagna come animatrice o sportiva o riguardante il teatro come scenografia prossimo stage ogni settimana prossima stimiamo una presenza di 50 ragazzi ciao sono Stefano, vorrei fare l'animatore per Movida e ho conosciuto questa agenzia attraverso la mia amica mi spiaggia e mi diverto ciao a tutti sono Claudia, sono una delle animatrici Movida sono Mattia ciao mi chiamo Sara sono venuta oggi qua a Milano ad accompagnare i tre verbanesi come me visto che stiamo reclutando nuovi animatori vorrei partire con Movida ho conosciuto Movida tramite internet a più presto vi saluto, vi mando un bacio voglio andare in Egitto andare all'estero mi piacerebbe però anche qua in Italia è andata benissimo vorrei entrare a Movida mi offro per qualsiasi ruolo come hostess il ruolo che mi piacerebbe fare è l'animatura di contatto o eventualmente come assistenza dal miniclub per sport animazione tutta un boccalupo a tutti per le elezioni l'estate 2008 sta arrivando siamo forti dall'atta hotel è tutto vi rinnovo l'appuntamento per il 18 gennaio Verona stage di animazione ciao 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 ciao